buongiorno 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 martedì 7 maggio si inizia subito con il nostro brasato con i pomodorini gialli mancava da un po di tempo i pomodorini sono belli brasato è uno spettacolo si parte così è tempo di tagliata si inizia subito rucola pulita pomodorini tagliati zeste di limone e il nostro pollo ancora tiepido ecco per esempio quando parliamo di qualità parlavamo di freschezza di bellezza e di bontà quindi il nostro straccetto ci entra tranquillamente eccoli qua appena affettati ed eccolo qua il nostro brasato perfettamente cotto e adesso ci dedichiamo al fondo come sempre sarà uno spettacolo sono già tre settimane e non ci lascia la nostra cinta senese provatela 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 uno spettacolo c'è qualche incomprensione ma si risolverà ed eccolo qua il nostro polpettone non manca io ti porto a central park con verde tutta tu mi guardi e mi rispondi è meglio poi che il capo è morto io ti voglio bene o yes però sto a scendere pazzo come a mattina che sta pezza c'è un man bandana da randella jazz come a mattina che sta pezza c'è un man bandana da randella jazz come a mattina che sta pezza c'è un man bandana da randella